Caro Sindaco, oggi è 5 aprile 2012, sono le 5.20 del pomeriggio e siamo a Via Libertà 257. Come puoi vedere, Sindaco, il ripristino che è stato fatto qua, a Via Libertà 257, è stato fatto una schipezza perché non sono stati ripristinati i San Pietrini, come si può vedere, è stato messo in modo asfalto ma è lo stesso pericoloso e ci troviamo praticamente a Via Libertà 257 e poi Caro Sindaco finalmente sta facendo la portatura delle piante con come è stato stabilito ringraziando ovviamente Lega, lo Sindaco, ringraziando l'assessore a Canto Santomartini e l'ufficio al verde pubblico, il signor Vettor Esposito al Polto. Come si può vedere, stiamo riprendendo, stiamo a Via Libertà e stiamo riprendendo praticamente tutta la zona di Via Libertà, quindi facciamo i fatti, non facciamo la demagogia, quindi Caro Sindaco, le lettere che uno ti scrive e si vedono poi i risultati, quindi facciamo i fatti, ecco qua la portatura, che stanno facendo un buon lavoro, con questo ho finito.